Ha scelto la sua Manfredonia allo storico Teatro San Michele, quello che negli anni 80 e 90 ha portato fortuna a diversi politici per chiudere la campagna elettorale. Antonio Leone, vicepresidente della Camera dei Deputati e candidato di punta del partito di Berlusconi alle prossime elezioni politiche, ha preferito la forma del talk show alla piazza per parlare al suo elettorato. Incalzato dalle domande di Attilio Romita del Tg1 e di Ernesto Tardivo della Gazzetta del Mezzogiorno, Leone non ha esitato a dichiarare che ormai la rimonta è completata. Rimonta completata lo vedremo alla chiusura delle urne, ritengo che siamo a un buon passo e che la vittoria oramai è scontata. La cosa più bella di questa campagna elettorale? Il rapporto che ho avuto con la gente, ho ritrovato un rapporto, l'entusiasmo rinato, è stata la cosa più piacevole e poi un'altra cosa. Ho innescato un meccanismo con le amministrazioni locali che mi ha fatto piacere ed è una cosa che voglio sfruttare per dopo nel senso di essere a disposizione delle amministrazioni locali, di questa nostra capitanata per cercare una volta per tutte, per mettere in rete una volta per tutte quelle che sono le esigenze di questo territorio forse un po' abbandonato. Oltre ad elencare i soliti problemi che attanagliano Manfredonia e la capitanata, dall'aeroporto agli ospedali, dalle strade alle infrastrutture pubbliche, Leone dal palco del San Michele ha lanciato la proposta di attivare la rete dei comuni e Manfredonia può esercitare il ruolo di città capofila. Manfredonia è una cosa realizzabilissima ed è una cosa che assolutamente deve essere oggetto di riflessione da parte di tutti. Io purtroppo ho incontrato, mi sembrava un paradosso, ho incontrato, ho dimenticato di dirlo, quasi tutte le amministrazioni locali, non ho incontrato quella di Manfredonia, l'ho richiesto, non ho avuto risposta.